Ebbene sì amico mio, alla fine di questo video so che mi ringrazierai non perché ti dirò qualcosa in particolare, ma perché ti aprirò la mente su quella che è la verità. Ebbene sì, il progetto Sierp2Million non è solo quello di spiegarvi come fare i soldi, ma è anche quello di spiegare come avere la mente per fare i soldi e come avere la mente per uscire da questo sistema. Viviamo in un sistema capitalistico non perfetto, ovvero non mirato al guadagno e al benessere, ma mirato al guadagno limitato e al malessere invece, spropositato. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire in poche parole che tutti quelli che pensano di fare una determinata cosa per se stessi in realtà stanno facendo per qualcun altro. Che cosa vuol dire questo? In maniera molto banale, molto semplice, questo sistema capitalistico è cresciuto su una falsa idea di capitalismo. Il reale capitalismo e il reale consumismo sono un tipo di mercato che è mirato al fatto che più persone possibili abbiano i soldi e più persone possibili consumino, comprino cose che magari non hanno neanche la necessità di queste cose, ma semplicemente lo fanno per far girare l'economia. Il sistema capitalistico in cui viviamo vuole farci credere che viviamo in questo sistema capitalistico, quindi in quello perfetto, in quello ipoteticamente realizzato alla perfezione. In realtà non è così. Il reale sistema economico mondiale, o comunque del 90% dei paesi del mondo, è mirato al tenervi in una determinata condizione economica dove non siete né completamente poveri, quindi completamente anche liberi, ma non siete neanche abbastanza arricchi da poter essere di nuovo completamente liberi. Vi vuole tenere in quella sorta di limbo, in quella sorta di classe media, che è quella che è stata decantata per tanti anni come il raggiungimento della felicità, ed è proprio lì che sta il problema. Chi sta peggio è la classe media, signori miei, non i poveri e assoluti, non i ricchi e assoluti, è la classe media. La classe media a livello mondiale, per classe media intendo anche che guadagni 500 euro al mese, perché la povertà assoluta ovviamente è una cosa ancora ben diversa. La classe media fa in modo che sia tutto quello che fa nella sua vita, tutta la sua vita, tutte le persone che lo circondano, siano completamente al 100% dipendenti dai soldi, soldi generati da un lavoro, lavoro che lo tiene occupato e che lo tiene in una condizione sociale e mentale di competitività estrema che non porta ad altro che al disgregamento di quella che è la propria mente logica, di quella che è la propria mente in grado di formulare ipotesi, in grado di formulare domande sul perché di questo sistema economico. Quindi, detto in parole un po' più semplicistiche, quello che vogliono non è tenervi poveri necessariamente, quello che vogliono è tenervi dipendenti dal sistema. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vi danno quell'illusione della carriera. L'illusione della carriera è quell'illusione che ti si viene a creare come scopo di vita. Tu pensi che la tua vita sia mirata alla raggiungere un determinato obiettivo economico, con un determinato obiettivo di potere, un determinato obiettivo quindi di carriera, che ne so, il dirigente d'azienda, il presidente di qualcosa, l'amministratore delegato di qualcos'altro. Ma questa è una grandissima palla, perché tu così stai sacrificando il tuo tempo. Lo sapete quanto tempo si passa in una vita media di 80 anni all'interno di un ufficio, all'interno di qualcosa per lavorare per qualcun altro che a sua volta lavora per qualcun altro, che a sua volta lavora per il mantenimento di questo sistema, ci passate all'incirca 22 anni. 22 anni. L'equivalente di tre condanne per rapina nella maggior parte dei paesi. L'equivalente di una condanna per omicidio volontario nel 50% buono dei paesi. È una vera e propria condanna e voi non ve ne rendete neanche conto. È una condanna che vi dà indietro un determinato quantitativo di soldi che voi andate a immettere in un sistema consumistico mirato al farvi spendere quei soldi per ottenere una felicità che in realtà non è quella e per farvi semplicemente avere 0 euro, un mucchio di debiti e continuare a fare lavorare con l'ipotesi vostra mentale di guadagnare di più per estinguere i problemi, creando altri problemi e rimettendosi nel circolo. Questo in poche parole è il madre, questo in poche parole è il sistema economico. Un sistema economico mirato a darvi 100 in modo tale che voi vogliate 200. Il momento in cui avete speso 200 e provate 100, dovete trovare il modo per fare 200. E così via, da 200 dovete trovare il modo per fare 400 di debito e dovete trovare il modo per fare 400 facendo poi debito di 800 e così via. Un sistema mirato all'indebitamento, un sistema mirato quindi allo schiavismo. Vi vogliono tenere in pugno, vi tengono in pugno dandovi un tot di soldi che voi ne spenderete di più e quindi vi faranno in pugno. Come ci si libera da questa cosa? Molto semplice, ci sono solo due modi. O te ne freghi, prendi tutto e vai a vivere su un'isola tropicale, deserta, con cinque anime in che voce, ti compri un barchino da 5.000 dollari scassato, vai a pescare, vendi il pesce al mercato dell'isola e campi, oppure vendi il cocco, vendi quello che vuoi, ed è, devo dire, anche una bella scelta, oppure ti fai i soldi e te ne freghi di tutto. Ti fai quel quantitativo di soldi, non per forza devi diventare milionario o miliardario, ti fai quel quantitativo di soldi che tu dici, io oggi voglio fare quella cosa, la faccio. Devi fare quel quantitativo di soldi che sia, non, ah, guadagni 20.000 euro al mese, però se domani voglio andare alle Maldive non posso perché devo lavorare. Devi fare, magari ti fai 5.000 euro e dici, ok, domani voglio andare alle Maldive? Parto, chi mi blocca? Domani voglio dormire tutto il giorno? Lo faccio, chi mi blocca? Quella è la vera libertà, perché in quel momento lì tu sì, fai consumismo, spendi, compri anche cose inutili per te stesso, però non gli dai niente in cambio a loro, tu non stai lavorando per loro, tu non stai cadendo nella loro tavappola di chiedere i soldi per poi tenerti sotto scacco, tu sei fuori dai loro radar, se fai così tu non sei sotto il loro controllo, sei fuori dal loro controllo, loro non possono controllarti, nel momento in cui tu ti generi i soldi da solo, non possono controllarti, ti ostacoleranno, cercheranno di mettere reati, ti accuseranno di evasione fiscale, ti accuseranno di ogni cosa per tenerti sotto controllo, ma se tu lo fai in maniera tranquilla, pacata, senza lasciare troppe tracce, non ti avranno mai sotto controllo. E questa la cosa bella, devi riuscire semplicemente a metterti in quella condizione dove puoi fare tutto quello che vuoi, quando vuoi. E se devi fare una rinuncia, fai una rinuncia che comunque non limita la tua libertà. Dici, cavolo vorrei fare una settimana in yacht, non lo posso fare. Ok, ma non succede niente, puoi fare qualcos'altro. Devi metterti in quella condizione lì. Se non hai abbastanza soldi, fai cose proporzionate a quello che hai, senza indebitarti e soprattutto senza comunque essere schiavo loro. Ti posso assicurare che nel momento in cui fai trading, nel momento in cui fai drop, nel momento in cui lavori per te stesso, ok, tu sei il capo di te stesso, sei tu che comandi te stesso, anche fare poco è molto soddisfacente. Per il semplice fatto che decidi tu quanto fare, decidi tu quanto vuoi stancarti quel giorno o no. E così non sei dipendente dai soldi, sono i soldi che sono dipendenti da te, perché sono i soldi che aspettano che tu li prendi, che tu li crei. Non è il contrario. Se capite questa cosa qua, vi si apre il mondo di tutto, vi si apre il mondo del trading, vi si apre il mondo di tutto, è andata a fare tutto con una coscienza, con una tranquillità assurda. Quello che può essere definito il chill, è paragonabile a una droga, è una droga da libertà. E per questo la vogliono rendere illegale.